Parte da Napoli la prima edizione di Bravi e Grazie, il concorso nazionale a premi ideato da ACAB Group per promuovere i comportamenti virtuosi dei cittadini. Il primo premio è un'automobile elettrica. Si guadagnano punti portando i rifiuti differenziati alle isole ecologiche, spostandosi a piedi o in bicicletta, rispondendo correttamente ai quiz sull'ambiente. È un concorso che premia i comportamenti positivi dei cittadini, è un concorso nazionale con un premio tra i veicoli elettrici e in particolare qua a Napoli dà l'opportunità di guadagnare punti conferendo materiali riciclati alle isole ecologiche, fisse e mobili che sono 22 e quindi una dotazione importante che può permettere ai cittadini con un minimo impegno di conferire in maniera corretta i propri materiali. Secondo noi coniugare informazione di servizio e gioco, divertimento coinvolge i cittadini. Sull'app è possibile avere anche un indicatore di performance che misura le proprie azioni ambientali, punteggi, livelli, classifiche. C'è la classifica nazionale, una classifica locale di Napoli e quindi sono dinamiche che sono coinvolgenti. Per partecipare alla gara bisogna scaricare sul proprio cellulare l'applicazione Ecoattivi e seguire le istruzioni. Il concorso, che scade il 30 settembre, invita i cittadini a conoscere le isole ecologiche fisse del proprio territorio ma anche quelle mobili che attraversano i quartieri della città. All'interno del concorso sono state inserite anche le isole ecologiche mobili, un altro sforzo che abbiamo fatto come amministrazione. Quindi la parola d'ordine è continuare in questo modo, un appello a cittadini a intensificare di più gli sforzi sulla raccolta differenziata utilizzando le attrezzature stradali, le isole ecologiche aperte a tutte gratuitamente, anche sabato e la domenica. Quindi isole ecologiche sono la parola d'ordine e l'altra è quella di estendere man mano il nostro porta a porta con gli aiuti e i vantaggi che arriveranno per i cittadini. L'iniziativa rientra fra le azioni promosse dal Comune di Napoli per incentivare l'abitudine alla raccolta differenziata, ad un corretto riciclo dei materiali e alle scelte che rispettano l'ambiente. È un modo per far scoprire le nostre isole ecologiche, è un modo ecologico per i cittadini di portare la raccolta differenziata, di portare i RAE, i VETE, anche quando uno cambia le finestre o anche quando ha degli ingombranti, in modo da non lasciare tutto questo materiale per terra e invece portarlo a un corretto riciclo. Noi siamo al 36% in questo momento, stiamo iniziando delle altre attività per fine anno quindi siamo sempre in crescita i dati della raccolta differenziata, è l'elemento più importante per una città come Napoli. Abbiamo un progetto nel prossimo biennio di ulteriori 200.000 abitanti di porta a porta, insomma un grande lavoro, devo dire un grande lavoro che riesce nel momento in cui c'è la collaborazione dei cittadini. L'elenco delle isole ecologiche della città è disponibile su www.comune.napoli.it o sull'app Asia Napoli.